E' un po' una delusione però, come si dice, pazienza. Tornerete? Speriamo, la speranza c'è sempre, ma non è che uno può venire qui tutti i giorni. Alcuni sono stupiti, altri delusi, altri ancora invece non si arrendono, torneranno per poterla ammirare. Dopo la lunga salita che conduce alla fortezza medicea di Arezzo, la grande delusione per turisti ma anche per qualche retino. Cancelli chiusi, i lunedì e il giorno di chiusura al pubblico. Tutte le informazioni sui giorni di visita è doveroso specificarlo, sono affisse all'ingresso della stessa fortezza e ben specificate su internet. Ma è comunque significativo leggere la delusione sul volto dei turisti una volta arrivati davanti al cancello sprangato. L'area che è stata riconsegnata alla cittadinanza solamente alcuni mesi fa, grazie al fascino delle sue bellezze architettoniche ed archeologiche, continua ad essere un forte richiamo attrattivo sia per i numerosi turisti che arrivano in città che per gli arettini desiderosi di riscoprire un magnifico angolo di Arezzo chiuso alle visite per anni. Per chi vorrà visitare la fortezza, dal 1 luglio al 30 settembre l'olario in vigore sarà il seguente, dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 14 e dalle 16 alle 21.